Un'opera dall'orchestrazione titanica, con una scrittura densissima e la potenza espressiva delle grandi tragedie greche. È l'Electra di Richard Strauss che apre la stagione sinfonica 2022-2023 dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, diretta da Sergio Antonio Pappano. Una grande sfida per l'inizio dell'ultima stagione del maestro come direttore musicale di Santa Cecilia, dove Electra viene rappresentata per la prima volta. All'orchestra e al coro dell'Accademia si affianca un cast d'eccezione, con il soprano lituano Ausrini e Stundite nel ruolo di Electra, interpretato con grande successo al Festival di Salisburgo del 2020-2021 e alla Stadzoper di Hamburgo, Elisabeth Stridi in quello di Criso Temide e Petra Lange come clitennestra. Questo pezzo di Richard Strauss è estremo su tutti i punti di vista, di volume, di dettaglio, di emozione, di violenza, di cinismo, però anche di grande amore e di grande speranza. Questo fa sì che la ricchezza di questo teatro greco passa al pubblico e spero. Sono veramente felice di poter eseguire questo pezzo. Insieme alla mia orchestra, il coro, l'ultima inaugurazione come direttore musicale, allora è una cosa importante. Nella storiografia dell'orchestrazione, Electra è fra le opere con l'organico più ampio della prima metà del Novecento e l'orchestra, ampliata da strumenti inconsueti come lo heckelfon, il corno di bassetto e la tromba bassa, esprime una forza enorme che si somma alla forza narrativa della tragedia di Sofocle. Il tutto è ulteriormente potenziato dalla forma di concerto che fa arrivare la musica direttamente al pubblico, con un effetto ancora più straordinario. Lo sforzo che dobbiamo fare tutti noi per solo eseguire le note fa parte del gioco in qualche maniera, fa parte del teatro della cosa. Questo teatro greco, arcaico, originale, ruvido, violento, ma straziante. Ci porta a riflettere tutti alla ricchezza della nostra vita di essere nella musica. È il pubblico che condivide queste cose. L'inaugurazione della stagione è stata presentata in conferenza stampa dal Presidente dell'Accademia di Santa Cecilia, Michele Dallongaro, assieme a Pappano e al Sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. Una stagione che prevede importanti novità, fra cui la Formula Y, riservata agli Ander 35, che consente di assistere ai concerti in platea a soli 10 euro, 280 euro per tutto il ciclo di 28 concerti. Sia titoli estremamente popolari, celebri che riscopriamo, che novità, a volte anche assolute, come prima esecuzione assolute. Quindi c'è il vecchio, c'è il nuovo. Ci sono compositori che vengono a dirigere la propria musica, come Thomas Hades, che è un importante compositore inglese, forse tra i più importanti, e anche direttore d'orchestra. Ci sono debutti importanti. C'è una giovane pianista italiana, Beatrice Rana, che è un po' nata dentro Santa Cecilia, che è addirittura in residence con un suo progetto sulla famiglia Schumann. Insomma, c'è tutto per tutti e con l'idea di raccontare e fare scoprire questo miracolo che è la musica che ci circonda.